Ho un aneddoto con Andrea, io ero nazionale, forse era la mia prima partita a Modena Io ero terzino, ero abituato, sai, quando parti chiami, palla Andrea Lui mi dà la palla, quando torno mi fa, per favore non chiamarla più perché già t'avevo visto dieci minuti prima Anzi, attrai solo l'attenzione degli altri Quindi quello mi ha fatto capire, ho detto forse sono entrati in un mondo, in un livello un po' più alto Torno nella mia nicchia, quindi io faccio il mio e sono sicuro che la parra mi arriva in qualsiasi momento Era un giocatore straordinario, è stato un periodo bellissimo quel passaggio della Juve Perché mi sono confrontato con questi campioni e veramente vedi che loro fanno veramente un altro sport